A vivere più di tutti, io faccio 4500 metri, non incontro neanche una barriera, io arrivo a terra senza problemi, ho più difficoltà ad andare al bar a prendere il caffè piuttosto che scendere nel paracadotto, è paradossale ma è vero, è così. Servirebbe sapere, la strada è già per aggirare tutte quante le barriere, servirebbe sapere, la strada è già per aggirare tutte quante le barriere.